Il 14 novembre, in occasione della Notte dei Ricercatori Abruzzo 2014, sarà a Lanciano, presso l'Officina Storica della Sangritana, Maurizio Martina, Ministro all'Agricoltura con delega all'Expo 2015. Tu hai la possibilità di rivolgere al Ministro una domanda sul tema Il futuro dei giovani nelle professioni della terra. Cosa vuoi chiedere al Ministro? Gentile Ministro, quali vantaggi possono trarre le aziende del comparto agroalimentare e di giovani imprenditori agricoli dall'utilizzo del web, della digitalizzazione ed in generale dall'uso del social media marketing? Silvia Di Giovanni Antonio, 27 anni, Teramo, dipendente del Polo di Innovazione Agroalimentare d'Abruzzo, agire.